eccoci qua signori big luca dalla puglia in questo momento non stabile assolutamente non stabile centro di nulla sono qua in vacanza come sapete devo fare un live perché poi il team lo carica su su youtube allora e a parte fatto che avremmo dovuto ci sono dei problemini in questa vabbè chiude oggi in realtà dovevamo chiuderla ieri visti i numeri ma va bene comunque così 49 euro potete avere il papi no la massima eminenza la massima conoscenza sull'online marketing strategico il mindset i soldi di merda eccoci qua già ha problemi il wifi allora per 49 euro ok quindi per 49 euro se andate su hackeraggiomentale.com il mio team ha fatto un'offerta ai limiti delle umane ai limiti proprio della matematica anche interna 49 euro e il prezzo di una cremina sponsorizzata da un dottore truffaldino e inesistente si ride ovviamente si si ride ma non si mente se si siamo ancora a lecce e vi arriva a casa il papi box ok con il libro big lucca senza pudore grande grande giova big lucca senza pudore le stiamo peraltro facendo stampare oggi e poi date una decina di giorni vi arriva no di meno no le stampiamo no scusate non è assolutamente vero mi hanno detto che i primi li consegnano cioè partono lunedì quindi oggi è mercoledì dategli una settimana e i primi cominciano ad arrivare perché ci sono dei tempisti che ovviamente tecniche fa stampare la roba i contenuti digitali sono immediati quindi ve li siete già guardati quindi vi arriva a casa big lucca senza pudore oggi siete in 40 segue che giorno è ormai i numeri non contano più big lucca senza pudore la mia personale biografia scritta di mio pugno quella che ho regalato all'evento di riccione e non era mai stata messa in vendita quindi vi arriva quella vi arriva un libro segreto molto bello molto interessante e avete accesso a un estratto dell'evento di riccione sulla manipolazione mentale di circa due ore su katanga la nostra piattaforma proprietaria e abbiamo inserito anche un documentario inedito su di me c'è il big lucca in jet privato molto valore per niente grazie prego andrea sì 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 infatti anche i venditori hanno detto se la fatevate la facevate a due o trecento facevamo meglio lo so ok era un regalo quindi prezzo simbolico e quindi anche il documentario di big lucca circa due ore di me in jet privato dove c'è il mio assistente che mi fa delle domande molto interessanti io che parlo a ruota libera scusa la domanda ma a livello di profitto ci siete state dentro occa che raggio mentale a zero ma spedizione stampa del cartaceo imballaggio tu non rompe giovarando non mi ricordare certe cose big lucca in jet non me lo posso perdersi allora dovevamo chiudere il 30 giugno e non si può fare di chiudere il 30 giorno che se capitiamo così continuiamo così e mi devo indebitare e chiudiamo oggi in realtà siamo fuori già di di copie ma vabbè problemi nostri e chiudiamo oggi a mezzanotte davvero per chi guarda per chi è scettico soprattutto benissimo è un'offerta gara prima costa 49 euro e hai subito accesso a quattro ore di contenuto digitale di cui uno è la registrazione di un evento di riccione dove la gente ha pagato 3000 euro a crappa quindi insomma si cade abbastanza in piedi ti arriva a casa al papi box in circa 10 giorni anche a livello internazionale grande a stone io non ho visto l'acquisto a 49 però e lo mando anche a dubai e spediamo anche a livello internazionale ovviamente la big lucca si chiama big lucca international noi stessi stiamo a dubai quindi anche chi sta fuori da ovviamente dall'italia cioè non è fuori perché per noi è tutto fuori non so se vi è chiaro il concetto ma molti non hanno compreso l'entità è a dubai quindi marginale da una cosa del genere non vorrei mai essere una di quelle persone che vendono sempre l'ottica grande grande ilario già preso io non ho mai ricevuto ciao io ho acquistato ma ho ricevuto solo l'occhio il materiale digitale quando potrò averlo e dovresti già poterlo avere se c'è un inghippo scrivete pure all'ufficio ragazzi abbiamo ricevuto diciamo più di due o tre ordini quindi a volte c'è magari qualche problemino tecnico non lo so scrivi al whatsapp aziendale quello che se vai sulla sales clicchi ti si apre whatsapp più 97 numero dubaino perché l'azienda di dubai gli iscrivi ti danno subito l'accesso non ti preoccupare quindi se avete ecco ragazzi sì spedite certo che spediamo a dubai perché non dovremmo farlo spediamo da tutte le parti del mondo ragazzi big lucca international noi non siamo in italia io adesso sono in vacanza poi torno ok quindi sì alberto arnato ma sei sei imparentato con alessandro sì spediamo in tutto il mondo ovviamente comprato 49 euro big lucca è come uscire con belen e portarla a giocare a bocce al circolo registrazione di riccione tanta roba la sto mandando in loop idea delle tempistiche di consegna preso una settimana fa allora i primi partono lunedì luca ne stavamo discutendo ieri peraltro stiamo facendo lavorare il nostro fornitore anche sabato e la domenica perché stiamo comprimendo i tempi ci sono dei tempi tecnici per stampare perché c'è un po di roba che ti arriverà a casa quindi ecco ragazzi non tu luca però capita sempre questa mettete l'indirizzo giusto se no il corriere non vi trova perché vi deve arrivare c'è il papibox voi tranquilli quindi allora chi Stefano mi dice grazie non so perché prego sono il ah grande quindi chi è scettico chi non capisce chi vuole diventare studente di big luca con una cifra ragazzi ripeto non fatemela ricordare che cifra stiamo vendendo per favore già mi sta montando mi sta salendo il katanga quindi avrete il vostro personale finalmente accesso a katanga sperimenterete che cos'è una piattaforma con l'immersione cominciate a capire che cos'è la formazione seria quindi formazione seria bene ho detto formazione seria mi sono messo le guai compra 49 al posto di stare lì a guardare è garantito c'è il rimborso se non vi piace non ho capito se a vita o entro 90 giorni e non abbiamo messo condizioni a sto giro quindi anche se lo comprate chiedete rimborso lo facciamo puntiamo sul fatto che nessuno faccia il furbo 49 si lo so non scrivermelo ok quindi è a rischio zero papi box arriva circa entro 10 giorni ragazzi ho un tempistico e tecnico per farlo stampare si no vabbè scettici a 49 però sicuramente ci sarà qualcuno che dice ma veramente mi mandate il papi box si si c'è il papi box abbiamo ricevuto però vabbè non vi serve sapere altro quindi se sapete di qualcuno un imprenditore un libero professionista quelli che vogliono fare soldi anche un regalo ecco il team ha messo il link un regalo così con 49 garantito cioè se non vi piace vi tenete il papi box e avete i soldi di 40 cioè spero che nessuno però non si sa mai eh bravo dimmele certe cose ah pure va bene va bene quindi grandi bravi vi piace vedermi soffrire bravi bella sensibilità quindi però chiude oggi doveva chiudere il 30 in realtà il mio office ma il nostro office manager Joseph ci riferisce che avremmo dovuto chiudere ieri e un po' prima di ieri e vabbè calcoli delle copie nostre e e quindi invece dovremmo farne stampare di più perché qui in lancio non l'abbiamo chiuso qui giusto va bene quindi approfittatene oggi e va tutto bene così oggi si chiude e per via del fatto che c'è ovviamente una spedizione fisica c'è un'organizzazione dietro e oggi cioè non è solo il fatto digitale perché questo è a bando digitale fisico per favore capite questa cosa non mettete in difficoltà i venditori perché non possiamo spedirvi una cosa che non c'è ok neanche adesso cioè stanno stampando e spediscono ma non possiamo a ogni ordine non so se è chiaro il problema ecco quindi in realtà dei miei 49 te ne saranno arrivati meno perché c'è la commissione di Edoardo madonna mia adesso che ho speso questi 49 vero mi sento povero bravo anche io anch'io anch'io che li ho incassati mi sento povero pensa te che transazione chissà il puttanaio di Plin Plin tra notifiche di Stripe e Paypal no no qualche decina diciamo niente no comunque abbiamo messo un cap semplicemente abbiamo stimato male i tempi di circa i quando l'avremmo raggiunto di circa due settimane quindi chiudiamo il 30 giugno assolutamente ok altre cose non lo so se avete due domande io poi sono riduce da un massaggio mi hanno sciosciato mi hanno grattato c'è donna che è arrabbiata con me perché lei è rimasta alla spa a fare la floating therapy perché le ho rubato la sua massaggiatrice preferita hai fatto il libro per aumentare la tua autorità è necessario per i professionisti fare il libro è una biografia non è autorità è proprio una biografia con delle cose anche intime infatti il sottotitolo è come sono collassato con gli psicofarmaci a 12 anni e diventato milionario a 25 è praticamente l'excursus della mia vita con robe mai rivelate infatti non l'avevo voluto mettere in venta chi al libro lo capisce l'avevo regalato non l'avevo neanche venduto ma è nato dal fatto chi a Riccione lo sa io volevo fare un intervento a Riccione sulla mia vita perché c'è anche a chi interessa ci sono degli psicofarmaci insomma della separazione per delle cose che potevano motivare potevano non lo so interessare in qualche modo poi l'evento ho detto è sulla manipolazione ci sono gli ospiti americani non sto a tediare le persone allora ho fatto il libro e l'ho dato come omaggio a Riccione ho detto è un omaggio se volete ve lo leggete se volete ve lo leggete e poi tutti lo richiedevano chi non è venuto a Riccione pensando che non l'ha ricevuto allora poi ci dicevano buttatelo fuori passato più di un anno ho detto vabbè mettiamoci anche il libro no in realtà chi prende mente Catti a 2000 euro mi sembra gli arriva anche il libro perché ce ne erano rimasti un po' da Riccione ne avevamo fatti stampare un po' di più però questo è il fatto quindi non è autorità il libro è utile per un professionista ma non è la cosa da fare per prima è una cosa che farcisce certo avere anche il libro aiuta ma il libro crea reputazione non autorità per raggiungere un obiettivo monetario va bene ascoltare una singola frase in lupo è meglio guardare anche video sul denaro è meglio fare tutto e agire perché se non agisci non guadagni niente del libro segreto non puoi dire qualcosa in più è un libro molto bello soprattutto per chi mi odia c'è allora tutti quelli che diranno ah perché Big Blue ok ok allora ragazzi fratelli ascoltate io capisco le esigenze dobbiamo mangiare tutti il contro che in realtà poi mi va è giusto è tutto giù è tutto legittimo prendete questa raga offerta qui 49 euro al massimo poi fate i furbi e chiedete l'imborso così vi inviamo un bonifico da 49 euro pensate che furbizia vedere un bonifico conto svizzero della Big Blue che entra in 49 euro e avete comunque anche il materiale mamma mia avrete successo nella vita a parte gli scherzi prendete questa roba vi arriva un po' di roba così capite un attimo come funzionano le cose davvero chi vuole aspettava la l'opportunità di studiare da noi di essere studenti di Big Blue a vedere i nostri contenuti a entrare diciamo in questa grande famiglia e questa è l'offerta per lui è chiaro ragazzi a 40 euro cioè già hanno esagerato quelli del tipo io con 49 euro vi do due pugni in faccia se arrivi con 49 euro però vabbè non voglio molto valido oggi per entrare nel TTA manda la tua candidatura non mi occupo io del TTA aspetta quindi c'è il libro e poi il libro segreto come fai a mantenere la calma io mi farei rimandare indietro le robe se chiedono il rimborso allora io non guardo queste cose perché se no mi viene nervoso vabbè a parte che abbiamo un tasso di rimborsi ridicolo metti in conto che come un supermercato qualcuno farà il furbo però se sei un'azienda seria devi introdurre questa cosa qui nel senso se i tuoi prodotti sono di qualità è chiaro c'è un confine sottile tra essere professionali e farsi prendere per il culo no a rate non l'hanno scritto anche se sono sincero ieri ho visto un accredito di 18 euro su Paypal adesso allora mi fai venire un dubbio no vabbè no no perché poi Paypal in teoria non dovreste neanche usarlo io ho detto mettete il suono strano e che fanno live ti copiano siano gli intercalari che le smorfi beh com'è possibile che in Italia tutti quei formatori che fanno i live ti copiano sia gli intercalari che le smorfi facciali allora ragazzi questa è una cosa normale non da imputare alla cattiveria cioè quando tu consumi tanto contenuto di qualcuno poi prendi il suo sourfair i suoi modi di fare nel bene e nel male come il dialetto cioè come l'accento si si arriva un pacco fisico con i libri sono cartacei per quello che non ce li avete quando comprate perché vi devono arrivare avete ovviamente subito il documentario di due ore in katanga l'account con la piattaforma tutto bello eccetera e con tutte le funzioni e l'estratto di riccione che si chiama che raggio mentale vedrete i miei corsi cliccate vedete i due banner e potete ascoltare sono quattro ore poi i libri vi arrivano tra dieci giorni circa arriva il puppy box ragazzi non è uno scherzo capisco che però vi assicuro che è così adesso ve l'ho già detto per qualche giorno all'inizio voi non avete idea del casino tutti che chiamavano dicendo è una truffa hanno mandato un'email big ma noi non ci caschiamo non a me vi parlavano con i responsabili no no hanno mandato il mail vi hanno sicuramente accherato il database ma io non ci casco 49 euro siamo mica pazzi che ci date il tasto invece eravamo noi veramente infatti per la prima ora non è entrata tre vendite ho detto ma che cazzo sta succedendo è anche 49 cosa vogliono di più e niente pensavano molto big un'altra domanda per la parte di troveremo accesso nel box o come funziona ce l'hai subito Luca probabilmente c'è anche un Q&R code da quello che ho capito comunque se avete delle domande ragazzi c'è l'ufficio c'è il numero verde ci sono i venditori queste robe tecniche non so comunque avete subito accesso digitale cioè non dovete questo è l'interesse non dovete aspettare che arrivi il puppy box per accedere digitalmente digitalmente accedete subito vi arriva un'email con il link vi si apre non so tecnica ok mettete la password e quella roba lì c'è il libro segreto ragazzi ho comprato l'offerta però non mi sia materializzato il libro vicino al pc come mai grande Alexan ad un certo punto nel video della giornata parli dei ricchi che fanno finta di non avere soldi con le ragazze e dici che è sbagliato ma poi il discorso viene tagliato quindi dici che la cosa migliore è semplicemente far vedere che hai tanti soldi e comportarti normalmente Nathan il video della giornata ah la giornata con Big Luca ecco lui parla del documentario già privato è un discorso un po' ampio dipende da cosa cerchi io non mi nascondo cioè ascolta non è una truffa è una rapina da parte nostra una domanda di fuori del col cosa ne pensi del project management e cosa ne penso della gestione dei progetti come ci si sente a passeggiare con milioni nelle stesse strade dove prima viaggiavi con 15 euro ma pirla uguale attendo il pacco a casa non vedete cosa ti tocca subire ma poi c'è il team che mi prende in giro boss siamo sopra dobbiamo stampare altre coppie dovevate grandi ragazzi bene vabbè lasciamo appena è successo ieri a cena ok ok bene sto rivelando troppo dettagli comunque hackeraggiomentale.com 49 non so devo dirvi comprate quindi puppy box ripetiamo il puppy box arriva a casa arriva circa tra dieci giorni ma subito accedete ai contenuti digitali quindi per chi dice ma io se no mi fottono i 49 no perché hai subito una roba digitale se non ti piace chiedi rimborso ti viene dato subito ci abbiamo voglia di casino non abbiamo voglia di fare niente non è nella fuffa nella truffa allora ah no questo è quello pinnato sorre di questo rispetto a fare un IT che di fea hai notato in termini di lavoro ovviamente non entrate ma non te lo dico Damiana prospettiva futura e figura lavorativa chi gestisce il processo non è una domanda Giulio e cioè vuol dire tutto e niente project management di quale progetto sempre su Katanga sì sì venite l'account del documentario digitale è su Katanga quindi avrete anche voi il vostro accesso a Katanga che è la nostra piattaforma che insegna vi mette le informazioni nella mente inconscia sfruttando l'immersione con tutte le funzionalità il percorso dell'eroe cose che ci sono costate centinaia di migliaia di euro che ovviamente abbiamo inventato noi eccetera eccetera ciao Big preso incredibile bellissimo monkey in ranna nera ciao Carola eh lo so non potevo più fare un live alla settimana ragazzi comunque se sei iscritta c'è sempre la lezione del pub va bene ragazzi io non vi devo dire nient'altro chiude oggi quindi chi eh prendete e poi potete fare anche dei reggae non lo so cosa potete fare però chiude oggi a mezzanotte vi prego di non mettere in difficoltà i venditori arrivando un minuto dopo due minuti dopo perché Katanga locca l'offerta in realtà l'abbiamo già slocata perché l'abbiamo locata vabbè però oggi finisce non è fake perché ogni volta c'è qualcuno che si spiega che stiamo dicendo una una minchiata è fisica la delivery perciò non possiamo inviarvi il papi box se non ne abbiamo più di papi e non stiamo a stampare papi adesso l'azienda si trasforma in un'entità che stampa dei pacchi a 49 euro cioè va bene c'è stata questa offerta e fine però cioè come a Riccione non so quando lo metteremo in vendita è passato un anno e mezzo cioè secondo me uno dei tuoi punti di successo è che alla gente ti fa percepire senza senso del bisogno questo secondo me ti fa percepire davvero un genio che noi abbiamo bisogno dei tuoi contenuti ma io ho il vantaggio di non avere bisogno di vendere questo è un vantaggio della madonna anche quando fai un evento per esempio e bisogno di soldi si vede sto riguardando il documentario in parallelo al live e noto che abbiamo un carattere molto simile come ti scrivi sentivi quando facevi solo 5.000 netti al mese povero povero